Weyla, eccoci qua con il nostro classico bitcoin update, pump, dopo aver fatto anche un dump Allora, vediamo cosa è successo, vediamo che cosa ho detto ieri, anzi vediamo cosa ho detto ieri Vediamo cosa ho detto ieri, strani come i tempi, qui c'è 1, 2, 3, già il 3 era un po' debole, eh, attenzione Però vabbè, 4, chiudo il centro, parto, parto e faccio il primo movimento e forse anche il secondo Perché dico forse, perché qui quando inizia la debolezza del terzo vuol dire che il mezzo settimana è abbastanza debole Però al di là di vedere il pelo nell'uovo abbiamo ottenuto le strutture di top Quindi ci sta che faccia anche un secondo movimento e poi ti fa il top Allora questo sarà il nostro punto di riferimento O double top o simil top, non è che deve per forza rompere il rialzo o fare per forza questo punto esatto Può anche fermarsi qui, fermarsi qui, cioè capite? Sempre quella è, la precisione chirurgica non è del mercato No, cioè non siamo Va bene, va bene, abbiamo visto abbastanza Allora l'unico problema è che ho cannato un po' le tempistiche Cioè nel senso che mi hanno dato un altro giornaliero sotto, vedete Ha fatto un altro giornaliero perché eravamo da queste parti qua Ha fatto un'ultima leg up ribassista Quindi sostanzialmente il giornaliero era partito da qua Ha fatto un'altra leg up ribassista Perché? Adesso spieghiamo perché ho fatto, io diciamo quest'errore Come ho detto in quell'audio Ho fatto l'errore di dare peso allo spot Cagata, classica, no? Perché lo spot effettivamente aveva un movimento relativamente più Che sembrava più pulito, no? Uno, due, tre, quattro e via Da teoria vuole che si parte almeno per il centro Aspetta, teoria vuole Quale teoria? Andate a cercarla questa teoria perché Teoria mia Cioè nel senso che non lo so chi le ha studiate queste cose bene Teoria mia, teoria vuole Di solito fanno così Ho fatto un corso apposta Che dal centro parte qualcosa E siccome qui con le tempistiche del stimolare inverso non ci siamo Dal centro parte la cosa è che va a chiudere anche il stimolare inverso E poi inverte Questa è la sostanza che poi Quindi se fa così e poi fa il top Tutti che grideranno Ah, lingua di buy e raccordo Quelle minchiate là Cioè non esistono Cioè nel senso è un movimento normale di mercato L'unico problema è Vedete ha fatto un altro giornaliero ribassista Perché? Eh perché lo spot non conta un cazzo Quando vai su time frame un po' più superiori Cioè lo spot ti serve ovviamente per operare Perché il semi A parte il fatto che è anche chiuso il fine settimana Vabbè Cioè non puoi operare sul semi Quando scendi giù sui cicli a tre ore Non è anche tutto sporco Guardate come è il grafico mutuo Non si capisce un cazzo Cioè non ha senso Però quando vai a vedere i beni giornalieri Dove si chiudono Il settimanale eccetera Il semi è la via Non lo spot Infatti il semi Vedete Il semi è più chiaro Assolutamente chiarissimo Nella sua struttura Qui è partito Sto settimanale Uno Due Qual è il problema? Che già dal due E anche qui bisognava suonare il campanello d'allarme Se stavo più attento Quindi colpa mia Se ti fa i primi due movimenti No? E poi già al terzo inizia a vincolarti le robe a ribasso No? Non per forza questo Ti vincola già qua Uno a ribasso Questo va giù fino al centro E basta Cioè non fa più rimbalzi prima Perché la struttura si sta inficciando Ed ora vuol dire che fa fatto solo Alla fine anche se ha fatto un mega pump Perché comunque non fa però Bla 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 Nei fatti Tutto questo impulso era già finito E si capiva che era già finito Quando siamo andati subito a rompere questo Dopo il secondo giornaliero Fa così Rompe qua A questo spunto Non c'è più rimbalzo Fino alla fine del centro Non c'è più rimbalzo Perché qui Si sta già indebolendo la struttura Che poi faccia un laterale ribassista Una sorta di barra di congestione Oppure in quel caso crolla Quando magari è veramente scarso Il settimanale Fa uno, due Poi inizia qui E poi c'è proprio crolla Allora ti fa il rimbalzo del centro Che sei già sotto Cioè è un macello Quando fai proprio schifoso Ci sta E questo è il punto che ho dato Peso allo spot Mannaggia a me Dando peso allo spot Io qui Ho tentato di nuovo Una ripartenza prima Vedete Qui c'era come sul davidio Il quarto Dico Allora qua parte Aveva dato il primo segnale Tutto Mi ero riposizionato Niente Alla fine c'ho Delle posizioni long e short Congelate Però qui Quando ho capito Che le cose non andavano Come dovevano Ho detto Vabbè Ascolta Chiudiamo Stendiamo Velo pietoso Congeliamo i long Con degli short No Io ho delle posizioni Comunque ancora congelate E qui Anzi Ci mettiamo a sto punto In linea col mercato E vediamo quanto ci da Qui comunque Ho fatto lo short Ho detto Magari non so Mi sbaglio Eccetera Poi adesso Con questo pump qua Ho preso il block notice E scritto Mai dubitare di me stesso Per ricordarmelo Per ricordarmi Questa cosa Però Non è che comunque Ho fatto benissimo Perché Avevo dato troppo peso Lo spot Quindi comunque Anche qui Mi sono preso La mia fetta di short L'ultima E poi qui però Ho capito che La view era giusta Stava tenendo il minimo Sono andato a ricontrollare Il semi Il semi è più chiaro Vedete Uno Due Tre Quattro E boom Si parte Il top qua Del semi Assolutamente Come dico Dal video scorso Non mi convince Per niente Cioè Giriamo il grafico Vedete Questo settimana All'inverso Non convince per niente Non c'è i tempi Non c'è i modi Non c'è niente No Questa roba qua A me non convince Cioè Non ha mai convinto Per questo ho tentato Nonostante qui Effettivamente Era già partito Un trend Ribassista Qui lo vedete Ribassista Ho tentato fino all'ultimo Di ritornare A fare il long No Poi qui Uno deve anche capire Quando magari ha Boh Sbagliato Oppure Comunque Anche se la via è giusta Continua ad andare All'altra parte E cazzo fa E ti bruci il conto No Mi sono messo In naftalina No Come dico Sono congelato Le posizioni C'ho dei long Un po' In perdita qua Ho congelato Con degli short Adesso questa roba qui È in naftalina Congelata Fino adatta A destinarsi Che di solito È adatta A destinarsi E quando si avranno Conferme Di time frame superiori Io anche Nelle settimane Passato Chi è sul tele Non lo sa Mi sono Naftanilato Naftanilato Con delle posizioni Long qua Che mi sono rimaste Bloccate No Qui avevo fatto Dei long Perché vedete Qui comunque C'è una rottura Ho detto qua Anche qui In effetti Questo top Di settimana inverso Era un po' strano Però qui effettivamente Era un po' tardi Ho detto Facciamo un long Mi è tornato Subito indietro Qui su semi È andato un po' più Però sullo spot Mi è andato subito indietro E mi sono rimasto E sono rimasto congelato Così Con il long Qua Diciamo No Perché magari L'ho fatto più alto Perché se no Mi si effetti Qui avrei già preso Un target Adesso non mi ricordo Esattamente Tanto C'è chi è sul tele Non lo sa Avrò fatto un long Da queste parti E poi Non sono riuscito A prendere neanche Un target Perché non era Un target minimo E da questa parte Mi sono congelato Short Questa roba qua Poi Questa roba qua Che poi L'ho anche magari Detta su youtube Io Mi sono congelato E ho vissuto la mia vita Come se non fosse successo niente No Per un po' Questo è il senso Di congelare la situazione Questa roba qua Boh Congelata Ciao E vivrò la mia vita Come se Non esistesse più Fatto tutti i miei short Pim pum pam Ma arrivato qui No Ho deciso di Chiudere Gli short No E quindi rimanevo short Nudo Diciamo con questo long qua E mi sono fatto anche i long Quando poi Ho ripreso il prezzo No A me bastava Chiudere questo spread Tipo Esempio Qua Chiudo Questi maledetti Questi maledetti short Aperti qua Che mi sono Cioè Questi maledetti Sì I short No Cioè i long maledetti Qua Però i short Hanno fatto tutto questo guadagno Me li chiudo A me bastava anche Che facesse Sostanzialmente Chiudo qui Mi fa questo rimbalzo Vedete Io ho già Chiuso Lo spread Di questa perdita Potremmo anche chiudere i long E chi se ne frega Però Ci vedeva che qui Riparteva qualcosa No Quindi a sto punto Io da qui Ho detto Chiudo solo i short E poi vediamo i long Come riesco a chiudere Da qui è partito Un bel trend Che io ho chiuso Già un long Vedete qua Altro che spread Di recupero Della perdita Ho guadagnato un botto E poi mi è andato addirittura Su che mi sono riuscito Addirittura a chiudere In stop a zero Quindi praticamente Non solo non è successo niente Ma ci ho guadagnato Da queste situazioni Cioè È quello il senso Che anche dico Nel corso Di operatività Che qui Faccio il video Su youtube Faccio Tra virgolette L'analista No E dico Secondo me qua Secondo me là E poi ovviamente Non è che secondo me Perché Non so C'è il gabbiano Che vola basso Fuori Quindi sta per piovere Cioè Ci sono delle motivazioni E un trader Deve essere anche un analista Però Alle volte Non è che deve essere Per forza Il re di tutti gli analisti Perché un analista Alle volte Magari ci imbrocca Però non sa come mettere i piccioli E fa un casino della madonna E alla fine perde soldi lo stesso Cioè Dice Sì sì Secondo me si sale Poi si sale Poi gli chiedi Ma le messi piccoli Eh però non me la sono sentita Le ho messi male Ho messo sto plus male Mi hanno preso sto partito Lo stesso Ecco Quindi la realtà è che Sì Diciamo che un trader Deve essere anche un decente analista Perché se no Non ci imbrocca proprio mai Mettiamola così Però Non è neanche detto Che debba essere Tutto sto gran analista Deve essere un trader Prima che analista Il trader Vedete Situazione Complicata Mi metto in naftalina Aspetto E poi mi va addirittura A favore No Quindi Vabbè È ovvio che se uno Poi è anche un bravo analista E un bravo trader Fa L'amplaine Cos'è 100 100 Però Capite che sono due cose Un po' diverse Quando neanche sotto i video Qualcuno mi tira fuori Ma tu non avevi previsto Che Ho capito Ragazzi se non Indovino Cioè In base a delle informazioni Che ho Dei movimenti Che ho studiato Eccetera Le dico La mia osservazione Perché è data Da volumi Dal ciclo Dalla trend Poi non è che se mi fa Uno scarico in più Come ha fatto qua Che comunque Potevo prevederlo Questo non posso dire Mercato brutto Cattivo Questa è la colpa mia Perché Comunque Perché comunque Lo spot Lo so benissimo Quello spot Non è attendibile No E anche se fosse stato Attendibile Qui Facciamo finta Già qua Vabbè che è un equal Però qui No Vabbè È lo spot Che non è attendibile Perché comunque Qua Ha fatto lo stesso Anche lui Due movimenti Già al terzo Era troppo scarico Quando fa due movimenti No E al terzo È troppo scarico Significa che Allora ti fa il quarto Ancora giù Molto probabilmente Oppure Anche al terzo No Nel senso Che fai così Fai così E poi Il terzo Fa così E fai quel quarto Così Cioè Questo è il senso Ok Quindi Adesso Adesso Quindi Torniamo da noi E vediamo un attimo Nesta cosa Quindi Cosa potrebbe succedere adesso Allora Si può dire Che sta facendo Secondo me L'ultimo canto Del cigno No Quello che avevo detto ieri No Provarsi che faccia L'ultimo canto Del cigno Cosa significa questo Che allora Se questa view È corretta Che si sta Rivelando corretta Ancora Siamo ancora un po' In anticipo Perché Comunque Io Come vedete Ho addirittura Già preso Due target Neanche uno Quindi vabbè Se proprio Non si rivelerà Corretta Me ne farò Una ragione Vedete Pazienza Non si rivela Corretta Pazienza Sono già preso Due target Ho il terzo In stop a zero Anzi perché non ho Qua segnato il terzo Il terzo vuole Il pump Ovviamente Vuole il pump E adesso Anzi A breve Probabilmente Quando chiudo il video Farò la piramidazione Perché siamo quasi pronti Per la prima Per una piramidazione Quindi non si capisce Esattamente Cosa sta succedendo Lo dico già Un attimo Vediamo Forse Perché qui Comunque sta sporcando Questo Vabbè Siamo nei time frame Brevi E qui c'è comunque Una forte resistenza Diamoli un attimo Di tempo Vediamo come si muove No Anche perché Questo può anche essere Tutto movimento Qui l'ho chiuso prima Ma Non è esatto Dai Chiuso prima Perché comunque Stava facendo già movimento Però in effetti È ripartito subito Quindi Niente Ci sta che stia facendo Già primi due movimenti Qui è partito Il giornaliero Primi due movimenti Adesso Terzo Quarto Va bene Adesso qui Ci sta a fare Anche una piramidazione Cina No Adesso mi aspetto Un attimo il segnale Quindi se mi arriva Il segnale A breve Io lo faccio E ve lo dico già Vedi vi sto già Apparecchiando un po' La tavola anche a voi Quindi Cosa mi aspetto Ok L'ho divagato Un attimo Quindi cosa mi aspetto Mi aspetto che adesso Faccia un pump Violento No Però È l'ultimo canto del cigno Vediamo dove va Vediamo dove va Perché qui Deve chiudere questo Questo non è chiuso qua Deve chiuderlo Chiude Come lo chiude Adesso Quello che vorrei vedere Anche che secondo me Potrebbe fare È chiaro Quando l'ha bastardata Come ho già detto Delle bastardate È che adesso Qui hanno messo E intrappolato Un sacco di short E ormai si crolla Qui hanno intrappolato Un sacco di short Ormai si crolla E è andato long Allora la gente Si è girata long No Poi No Sto cazzo Ti uccido il long E inizia ad andare di nuovo short E hanno intrappolato di nuovo short Adesso fanno il pump No Arrivando addirittura qua sopra Arrivando addirittura qui Adesso io Fanta Diciamolo così Fanta trading Io non so adesso Se lo fanno sta roba Eh Attenzione Se lo fanno Tanto sono già long Capite Però A me puzza sta cosa Puzza che possono veramente Fare una mossa Visto che siamo già Al 9 maggio No Siamo al 9 maggio E questi Fra poco Vogliono fare l'ultima mossa E poi far colare tutto il mercato Vedete che ho la batteria Che mi si sta scaricando A 9 32% Non ho messo il cavo Mi sono indicato Ok Se fanno una roba così Capite che fanno un massacro Fanno un massacro di short Di long Fanno una distruzione totale Arrivano qui Ipotesi 70k To the moon Tutti i monboi Entreranno in massa Perché ormai Stanno perdendo il treno Per i 100 E poi Spada di Damocle Boom Eh Sarebbe veramente bastarda Sta roba Bastarda Se rimaniamo sui movimenti Più Invece che proprio Bastardi dentro Da bastardi dentro Poi magari In realtà Fanno magari solo 1-2 pump Così E poi si scende Questa sarebbe Una roba più normale Che fanno Però sapete Qui L'eccesso È dietro l'angolo E La bastardaggine È dietro l'angolo Quindi Io starei Con l'alerta alta Adesso Con l'alerta alta Poi chiaramente Dopo che hanno finito Qui Si può constatare Qua sopra Cosa fanno Però Rimango Beh Eberis di lungo Questo settimanale Appunto Non ha finito Non ha finito Poi bisogna vedere Con le tempistiche Quando farà Secondo Terzo Quarto giorno Dove siamo E appunto Qua farà Apprezzo un giornaliero Ti fa uno Magari Poi ti fa due E qui bisogna vedere Se fanno una bastardaggine O no Poi si fermano prima Bla 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 Poi inizierà a fare Il tre Quattro E qui si chiude Qui Cosa fanno Mega bastardaggine In un giorno E dopo ti buttano giù Nel giorno dopo Madonna Occhio eh Occhio Che qui secondo me La situazione è veramente Pericolosa Se non fate le cose Fate bene Pericolosissima Se non riuscite a gestire La situazione Meglio che state Alla finestra Perché è possibile Sta roba Che ti diano Falsi segnali I galattici Da una parte E poi si girino Velocemente In distruzione Dall'altra Ho veramente paura Che possano fare Una roba del genere Paura Io qui Sono long Arrivo qui Vedo che le cose Non vanno Si gira short Chiudo E mi giro short Questo è il senso Però Se uno non è capace Fa una carnificina Lo dico io Fa una carnificina Adesso qui Anche tutte queste trend Aspetta che le sistemo Sono tutte incasinate Qui perché poi Posso pensare Che fosse una strada Perché al di là Che qui Comunque potete Che è partito Magari sto Biennale inverso Però vedete che sta facendo Una sorta di movimento A quattro E adesso qui Secondo me Non dovrebbe fare Sta cosa adesso Perché Qui io identifico La partenza Del 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 biennale No E quindi Uno, due, tre, quattro Non dovrebbe andare A sporcare adesso I minimi Però Se il biennale Fosse veramente Partito da qui Molto corto Cioè il trimestrale Inverso Chiamiamolo No Forse partito da qui Molto corto Per qualche motivo Che a me è sconosciuto Saremo già Uno, due, tre, quattro E questo sarebbe Il quattro Capito Fa così Bastardo totale Fa la chiusura del quattro E va Anche qui Ci sarebbe una view Possibile Però Su questo punto qua Vedete A me sembra Che ci siano già Due swing Che adesso Va a chiudere Questo preciso Poi fa il terzo Poi fa il quarto Non lo so Il punto è Che poi Anche se Fanno le cose di breve Capite Se fanno una roba così E poi tutto spike E se lo rimangiano Non è che hanno confermato niente Perché poi alla fine Si guardano le chiusure Il giornaliero Le chiusure Le quattro ore Delle chiusure Quando ci sono dei spike Gli spike Non contano un cazzo Contano solo Che se tu avevi lo stop loss Qua te l'hanno inculato Eh 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 Quello conta Che ti hanno fottuta sangue Eh eh Quello conta Però non lo può Non conta come Reale movimento Cioè È solo una manipolazione E poi si va giù Tra l'altro Qui c'è anche Questa inefficienza Che Che è bruttina Potrebbero andare a chiuderla Chiudono Spike Ciao E poi si va Pesantemente giù Fino agli inferi Ed oltre Questa è la mia view principale Però come ho detto Poi Io sono sul pezzo Mi fanno Una Una scoregina Così E poi iniziano a invertire E mi girerò short Già Ovviamente Perché qui ormai Eh Mi 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 arrivano solo qui E poi E io chiudo Le operazioni E mi girerò prima No? Capite? Adesso qui girano Già subito short Ho già preso i due target E mi allungherò short Mi stoppa a zero Cioè Per questo faccio le operazioni Sui tre ore Sui giornalieri Alle volte rimani incastrato Perché è chiaro Alle volte rimani incastrato Come sono rimasto incastrato Qui Andiamo a vedere Come sono rimasto incastrato Anche in quella roba Che vi ho detto Perché Ovviamente Guardate quanta confusione Cioè C'è tanta confusione Alle volte Qui Sembra che parta Qui per due volte Sembrava che partisse qualcosa E invece è stato Completamente annullato Parte qualcosa Annullato Parte qualcosa Annullato No? Questo era già più sgammabile Che non partiva niente Per carità Però Infatti ho fatto lo short Però Vedete come sono dei bastardi E' chiaro che Allora uno deve avere esperienza A posizionarsi sui time frame bassi Però sui time frame bassi Alle volte eviti Più Rotture di palle Perché se ti posizioni Su time frame più alto Devi stare in posizioni Con più Con più Distanza Dei stop loss Eccetera Devi aspettarti Dei movimenti più ampi Cioè Guardate qui Se uno vuole farsi Anche solo La posizione dei settimanali Per i trimestrali No? Quindi l'investimento Chiamiamolo Io guardo un settimanale Guardo come sono messi Poi faccio l'investimento Cioè L'investimento long Guardate va tu che non c'è Perché siamo interna di ribassista Chiamiamolo investimento short No Tu avresti dovuto fare L'investimento short qua E Ti metti qui come stop loss No? Perché è il primo livello Ti devi mettere qua su Cioè Capite che volatilità Ti bechi in questa operazione Perché anche se ti arriva Fin qua il prezzo Come ho detto E ti fa una bastardata Infatti magari è una bastardata E ti serve solo per Buttare fuori Chi si è posizionato così Capite? Eh E quello è il senso E quindi tu devi stare qui Ad aspettare E anche subirti un sacco di volatilità Nel frattempo E Boh Cioè Sì Ok È un'operatività Che alla fine può anche portare Profitto allo stesso Ed è più tranquilla Per carità Però Capite bene Non è il massimo Anche perché poi Il primo target Ma la pena è qui E già questo Può essere il target D'arrivo Tra l'altro Cioè Nel senso Non è che deve per forza Crollare a 40k E poi Ok Sì c'è il tuo secondo target Qui Che è 1 a 1 Arrivi qui Però guardate che volatilità Che devi subirti Con questa operazione C'era una Così così Invece qui Se ti metti sui 3 ore Ti fai giornalieri Io Non so Qui ad esempio Mi devo mettere long Aspetto questo segnalino qua Vedete Qui C'ho due Più o meno due livelli Chiamiamoli così Perché comunque Qui c'è già uno swingetto Che mi dà un livello Anche se è tanto vicino a questo Però insomma C'ho due già swing Che mi aiutano Mettiamola così Infatti mi metterai qui Vedete che qui C'è già tutto uno swing Posso già Identificare questo Come il primo Questo come il primo Mi prendo il primo target Mi prendo il secondo E il terzo Lo terzo faccio la stessa roba Che avrei voluto fare Per il trade Il swing di lungo periodo Dico Lo tengo dentro Se tutto mi va su Tutto mi rompe Il rialzo di settimana Eccetera Lo tengo dentro Se no no Cioè Sono più agile Sono più agile Però ci vuole più esperienza Più agile Nel senso che Se mi fanno qualche porcheria Qualche volta Prenderò anch'io Lo stop loss O congelo delle posizioni Che poi devo aggiustare Però generalmente Le subisco meno Le porcherie No E provo a cavalcare Lo stesso E chiaramente Ci vuole più esperienza E c'è un corso Anche io ho fatto Tutto per questo Di anni Perché Non è solo esperienza Ci vuole bisogno Fare cose giuste E tante cose Che dicono Anche in giro Sono sbagliate Quindi Ok Io penso che ci siamo Quindi siamo pronti Per me All'ultimo canto Del cigno Per ora Perché poi andiamo Verso maggio Giugno Non sono mai stati I mesi buoni Cioè siamo già a maggio Da metà maggio In poi Non sono mai stati I mesi buoni Il punto è Quanto spingeranno Per fare la loro Mossa Se vediamo Anche il passato E quante volte Maggio è stato Un mese di merda Anche per tutti i mercati In generale Spesso maggio È un mese di merda Attenzione Non è che Qui eravamo Ad aprile E guardate qui Già è iniziata prima Già ad aprile Qui iniziò Ad andare male Le cose Ma quando è che Sono andate Di male in peggio Maggio Guardate che maggio Che abbiamo avuto qua Questo è Primo maggio Questo è Siamo già a giugno Vabbè Guardate che ribasso Tutto maggio Per market Vabbè Questo però Era il bull market Vedete qui maggio Che bel mese Che è stato Qui siamo al 26 aprile Guardate anche un po' I movimenti Che abbiamo fatto adesso No Qui abbiamo fatto Il primo maggio Abbiamo fatto questo movimento Vedete Il 26 aprile Primo maggio Più o meno Primo maggio Qui Anzi no Qua 17 aprile Ci siamo al momento Qui c'è già un secondo Il primo maggio Più o meno Come tempistica Adesso può darsi Che facciano Il rimbalzo finale Come hanno fatto qui Vedete Che hanno fatto C'è stato già lo scarico Fino a fine aprile Primi di maggio Qui hanno fatto Un bel rimbalzone E poi Ha decorato tutto Da 9 maggio In poi 10 Quindi ancora Teneva la struttura 11 Dal 12 maggio In poi Uno scatafascio Senza precedenti Scatafascissimo Sul maggio Del 2023 C'è stata Prima Il casino Perché c'è stato A marzo La questione Delle banche Delle banche regionali Quindi qui Probabilmente È già qui Che abbiamo Sfogato Il periodo Negativo Comunque anche qui 15 aprile E poi siamo stati giù Fino a giugno Anche se era un laterale Di bastista Semplice Non è mai stato Un bel mese Maggio Per bitcoin Ma neanche Per i mercati In generale Infatti C'è il tetto No Selling me E go away Ega per niente Quindi Io Non Cioè Con tutti Questi elementi Vado long Perché penso Che sia un rimbalzo E poi Però Vorrei vedere La fine del rimbalzo Per posizionarmi short Perché Penso che sia Proprio L'ultimo canto Del cigno Ecco Con questo video È tutto E ci vediamo alla prossima Ciao Uzz